Ginevra Lamborghini è rimasta dentro la casa del grande fratello Vip solo due settimane. Ma ha indubbiamente lasciato il segno e chi dice il contrario è in mala fede. Nonostante siano passati oltre due mesi da quel 3 ottobre 2022 che l'ha vista uscire dalla Porta Rossa in lacrime perché squalificata. In studio e nella casa continuano a parlare di lei. Alfonso Signorini ogni puntata la interpella. Nel corso di queste settimane ben due volte è rientrata in casa per fare un confronto con i suoi ex coinquilini e sopra il giardino volano tuttora aerei con striscioni a lei dedicati. La sua amicizia con Antonino Spinalbese ha lasciato il segno e fatto nascere il cancelletto Gintonic che tuttora a distanza di due mesi dalla sua uscita esistono e persistono. Non frega niente a nessuno se lei sembrerebbe essere tuttora fidanzata con Edoardo Casella. Alias Scucugno. Ne che Antonino abbia fatto l'amore con Oriana Marzoli. I cancelletto Gintonic ancora supportano il loro legame. Per questo motivo. Dopo due mesi di hashtag cancelletto Ginevra dentro spesso finito fra i trend topic. La produzione del Grande Fratello vi fa ben pensato di rimandare Ginevra Lamborghini nel luogo del delitto in qualità di guest star. Non è la prima volta che un concorrente squalificato rientra in casa per una settimana in qualità di ospite. L'anno scorso Alex Belli squalificato per non aver rispettato la distanza di sicurezza imposta a causa del covid ha fatto il suo rientro in casa poche settimane dopo. Certo. L'accusa mossa nei confronti di Ginevra Lamborghini, bullismo, è stata ben più grave di quella mossa ad Alex Belli. Ma a quanto pare le scuse in diretta nazionale e il perdono di Marco Bellavia hanno sistemato tutto. Ginevra Lamborghini rientra al Grande Fratello Vip per una settimana. La reazione del fidanzato. Io sono già due volte che vado nella casa a fare un po' di saluti. Ma me la lanciano lì la proposta. Dai! Ma vieni a stare? Ha esordito Ginevra Lamborghini. Io avrei bisogno innanzitutto di una vacanza. Ho cercato voli a destra e manca. Ma sai non si trova proprio niente adesso perché siamo arrivati tardi. Io una vacanzina me la farei. Dentro la casa? Le ha chiesto allora signorini. Che ha ottenuto come risposta un, perché no? Sono stata molto bene. La nostra Ginevra non entrerà nella casa come concorrente perché è stata squalificata. Ha proseguito il conduttore, però una settimana nella casa sì. Anche perché noi non vediamo l'ora di capire come Antonino reagirà. Come reagirà? Come reagirà Antonino non possiamo saperlo. Ma come ha reagito il suo fidanzato Edoardo sì. Con un bel lichè.